Anticipazioni americane Beautiful, Liam e Steffi divisi da Sally Beautiful Anticipazioni americane, Liam diventa l'eroe di Sally, Steffi Furiosa Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate ciò che è accaduto alla Spencer Publications porterà diversi cambiamenti nelle relazioni dei protagonisti. Liam continuerà a guidare l'azienda di famiglia, nonostante dall'altra parte Steffi non lo appoggerà Infatti, la figlia di Ridge cercherà di trovare un modo per risolvere l'astio che è nata tra Bill e Liam La giovane passerà del tempo con il suocero, allo scopo di riavvicinarlo al figlio Ma Steffi non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. Nel frattempo, Brooke sarà molto preoccupata per l'intera situazione Bill non avrà ancora intenzione di rivelare alla moglie cos'è realmente accaduto con Liam e la Spectra. Proprio per questo motivo, il matrimonio di Bill e Brooke verrà messo seriamente in pericolo Intanto, Ridge cercherà di riconquistare il cuore della Logan, la quale continuerà ad essere furiosa con il marito. Il Forester sarà disposto a tutto pur di ritornare a fianco di Brooke Inoltre, Ridge non starà con le mani in mano neanche alla Forester Creations, dove tenterà di ricucire il suo rapporto con Eric Beautiful, Steffi affronta Sally, Liam, al potere. Dalle anticipazioni sappiamo che Liam riesce a impossessarsi dell'edificio della Spectra. Il giovane Spencer, però, non porta avanti il piano del padre Infatti, il marito di Steffi concede l'intero edificio a Sally, al fine di permetterle di ricostruire la sua azienda. Per la giovane Spectra questo gesto rappresenterà molto Infatti, Liam e Sally si avvicineranno sempre di più nelle prossime puntate americane. Per la Spectra, il figlio di Bill risulterà come un eroe Steffi inizierà a rendersi conto della vicinanza tra Liam e Sally. A questo punto, la figlia di Ridge verrà a conoscenza del gesto del marito nei confronti della rivale Steffi non potrà restare con le mani in mano, tanto che deciderà di affrontare una volta per tutti i salli. Nel frattempo, Liam inizierà a fare le prime modifiche all'interno della Spencer Publications. Anticipazioni Beautiful, la famiglia Spencer si divide Gli spencer continueranno ad essere distanti. I telespettatori vedranno Viatt deluso per quanto starà accadendo all'interno dell'azienda di famiglia. Il figlio di Quinn, infatti, non accetterà di vedere il fratello al timone della Spencer Publications. Per tale motivo, Viatt affronterà Liam. I problemi continueranno ad accentuarsi all'interno della famiglia di Bill. Quest'ultimo potrebbe presto scoprire la relazione segreta di Viatt e Catie. I due amanti, infatti, continueranno a vedersi. Per Bill, la storia d'amore tra la sua ex moglie e suo figlio, potrebbe rappresentare l'ennesimo tradimento da parte della sua famiglia. Per Bill, la storia d'amore tra la sua famiglia. Per Bill, la storia d'amore tra la sua famiglia.